Continuiamo a parlare dei bandi, intanto deve uscire ancora il bando per quanto riguarda i parcheggi a pagamento, però siamo a buon punto, entro la fine del mese e oggi poi si sceglieranno anche le tariffe. Sì, il bando presto sarà pubblicato, sono già fissati i criteri, è stata approvata da me la relazione prevista ai fini della predisposizione del bando stesso, l'unità di progetto che avevamo istituito ha concluso nei giorni scorsi il proprio lavoro, quindi nel giro di una decina di giorni, 10-15 giorni verrà pubblicato. Un atto prodromico all'approvazione del bando, all'emanazione del bando e all'approvazione delle tariffe. C'è la preoccupazione che i livelli occupazionali possano non essere quelli attuali, quello che posso dire è che era un'iniziativa assolutamente indispensabile, data una situazione di proroga precedente, attuale per la verità e che il bando verrà calibrato in modo da favorire il più possibile le offerte che garantiscono o garantiranno un'occupazione maggiore. Intanto a proposito di bandi, è partito praticamente quello relativo ai palazzetti, alla gestione dei palazzetti dello sport, il Palasca e il Pala Acquaviva. Sì, ieri è stato pubblicato il bando relativo, il termine di scadenza delle domande è il 4 maggio, l'8 maggio ci sarà l'apertura delle offerte e quindi poi l'aggiudicazione. Come già si sa per un periodo piuttosto lungo, di 10 anni, più 10 anni, ma questa è stata una scelta indubbiamente un po' condizionante per il futuro e questo lo comprendo, ma indispensabile per garantire una maggiore appetibilità al bando stesso. Ovviamente la gestione comporterà che le bollette saranno pagate appunto dalle società che gestiscono, che gestiranno questi palazzetti, non più insomma il comune. No, infatti questa è una delle novità principali, è quella che nessun onere farà più carico al comune, ovviamente a fronte di questo, come già ho detto più volte, c'è una liberalizzazione delle tariffe attuata con la modifica regolamentare a suo tempo fatta dalla gestione commissariale e neanche ci saranno più contributi per la gestione. Grazie a tutti.